La centrale unica del 118 Pescara Chieti da oggi diventa realtà con innumerevoli vantaggi per la collettività. Assessore Paolucci. Sì, oggi firmiamo il protocollo d'intesa, finalmente diventa realtà la centrale unica del Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza tra la AS di Chieti e la AS di Pescara in una posizione baricentrica a servizio dell'utenza e per migliorare ovviamente le prestazioni, in particolar modo della rete di emergenza urgenza, ma non solo. Non significa, precisiamolo, ridurre le postazioni dei 118, anzi quelle vengono totalmente salvaguardate, ma al contrario mettiamo al centro la qualità delle prestazioni da erogare. In sostanza, quando ci sarà un'urgenza, la centrale unica determinerà qual è il luogo nel quale, oltre che trovare adeguata copertura di posti letto, si troverà un'adeguata risposta rispetto al tempo dipendente. Se si tratta di sistema cardiovascolare si fa a Chieti, per quanto riguarda gli altri due tipi di urgenze, traumatologiche o neurochirurgiche, si andrà a pescare e credo che sarà un fatto molto molto importante intanto per i cittadini. Questa è una bella giornata perché si compie un bel percorso dove siamo riusciti a mettere insieme esigenze del territorio importanti come quelle del servizio sanitario e la centralità dell'aeroporto che è collocato al centro tra l'area di Pescara e l'area di Chieti. E quindi pensiamo che con questo si possa fare sinergia tra i diversi settori e soprattutto migliorare il servizio che naturalmente verrà fornito in quanto mettendo insieme e creando massa critica tra le strutture di Pescara e di Chieti ben posizionate con tutti i servizi che offre il sito aeroportuale che è un sito che opera 24 ore al giorno e quindi penso che con questo non si poteva fare di meglio.